partiamo subito con le news la prima news di cui vorrei commentare con voi è la news di Logan Paul il famoso youtuber che ha fatto scalpore poco prima insomma di Natale, 3 Natale e Gennaio perché aveva pubblicato il video di quando è stato in Giappone nella foresta dei suicidi e a purtroppo ha trovato un cadavere e lui ha pubblicato un video in cui schermiva questo cadavere con i suoi compagni e questo già ha fatto scalpore dopo gli ultimi video in cui si è messaggio il detersivo e altri paio di bravate youtube ha deciso di levare la monetizzazione dei suoi video quindi non guadagna più attraverso la batteria a forma di youtube un commento rapido rapido allora youtube è un canale comunque privato quindi una gestione privata una società privata in questo caso di google e quindi possono fare le regole che vogliono io non ci do nulla di male a levare la monetizzazione ma a me piacerebbe una cosa un po' più uniforme se leviamo la monetizzazione a Logan Paul per i suoi atteggiamenti diciamo antisociali comportamenti non giusti insomma inumani e tutto quello che vi pare allora dobbiamo iniziare a non monetizzare nemmeno i video di chi corre in macchina nemmeno il video di chi salta tra i balconi degli hotel chi fa cose troppo spericolate perché potrebbe incentivare le persone a fare ugualmente le stesse cose che sono tra l'altro molto pericolose quindi insomma a me piacerebbe un'uniformità di giudizio da parte youtube che in questo caso sta mancando negli ultimi tempi però a proposito di youtube veniamo alla seconda notizia del giorno che a me ha lasciato veramente sorpreso è stato il super bowl allora come tutti sappiamo durante il main show del super bowl dall'intervallo tra il primo e il secondo tempo del super bowl c'è questo main show e la pubblicità che va a costare fra 3 5 milioni di dollari per 30 secondi di pubblicità la cosa che a me ha fatto più divertire è che su youtube sono usciti la settimana prima i video delle pubblicità che non sono state ammesse al super bowl e hanno avuto forse più successo delle pubblicità stesse e allora questo fa riflette fa molto riflette se bisogna fare pubblicità per fare pubblicità ci sta facendo rendere conto di quanto ormai la pubblicità sia connaturata nei nostri aspetti della vita quotidiana e non ci facciamo molto più caso unito a questo discorso quindi che gli spot pubblicitari sono stati più visti non in quanto spot ma in quanto proprio non messi non ammessi al super bowl vorrei parlare con voi di un altro argomento sempre youtube e sempre pubblicità molte società si stanno lamentando per le sponsorizzazioni nel senso che i loro video vengono associati le loro pubblicità vengono messe davanti o durante dei video di dubbio gusto bene allora non so voi ma io a memoria non mi ricordo una pubblicità veramente importante che mi ha colpito durante i video anche quelli più strani quelli più assurdi quelli di incidenti di macchine secondo me il concetto è che il video si deve fissare in quanto video tale non legato ad un altro video quindi la pubblicità mi deve rimanere impressa o per il prodotto o per la pubblicità stessa l'ultimo commento che vorrei fare con voi riguarda per la snapchat la famosa applicazione di messaggisti che permette di condividere storie e messaggi un po' stile Instagram o proprio qualcosa di diverso si è scoperto che tecnicamente l'applicazione fa molto schifo su Android in quanto non usa la camera nativa ma praticamente fa gli screenshot e registra il display del telefono questo per farsi per aumentare la compatibilità perché come sappiamo Android viene sviluppato su 12.000 telefoni 12.000 modelli scusate diversi e anche 12.000 software diversi perché fondamentalmente la base è Android ma poi ci sono tutte le varie personalizzazioni delle interfacce quindi come ha risolto il problema snapchat per non diciamo per non dover sviluppare per ogni telefono praticamente quando voi mettete lanciate la fotocamera lui fa partire la fotocamera ma non registra attraverso il sensore i dati che invia la fotocamera ma proprio lo schermo del telefono quindi è come se facesse degli screenshot costanti sia per le foto che per i video mentre questo non accade su Apple perché Apple non permette ciò e fondamentalmente devono sviluppare un'unica applicazione quindi ancora una volta diciamo che questo divario da chi usa l'app su iOS e su Android e questo fa molto riflettere sia sulla frammentazione di Android e su come poi Snapchat non sappia leggere i dati utenti i dati utenti che parlano o forse non li vuole leggere fondamentalmente per non investire perché secondo me non se la passe a bene e non vuole investire per l'appunto sulla piattaforma Android in quanto è il telefono più usato per Snapchat Android del sistema operativo che è anche quello più diffuso in base ai numeri quindi insomma Snapchat per favore fai un'applicazione come si deve fai uscire applicazioni lo so che non è facile non è lo so che costa soldi che costa tempo però non siete l'ultima startup arrivata sul mercato quindi secondo me dovete fare una piattaforma di livello se le news e i commenti vi sono piaciuti lasciate un mi piace qui sotto commentate e condividate il video così possiamo crescere il canale e continuate a seguirci su Bazzidea.net un saluto da Massimiliano ciao grazie a tutti